Buonasera a tutti, questa sera ho un bel incontro con Rossano Ronci che ha una lunga carriera perché ha iniziato da giovanissimo quando aveva 15 anni addirittura come assistente e poi man mano cammin facendo ha trovato quella che era la sua vocazione, quindi negli anni 2000 diciamo si profila tutta la sua personalità dal punto di vista fotografico. Ciao Rossano. Ciao, buonasera a tutti. Come nasce questa decisione di fare il fotografo, poi tra l'altro anche il fotografo professionista che è una strada anche in salita, no? Sì, soprattutto in quegli anni lì, a metà degli anni 80, in ogni caso era più semplice perché c'era ovviamente un percorso molto più delineato per crescere a livello professionale, quindi non è che nel giro di un paio d'anni come succede spesso negli ultimi 10-12 anni ci si improvvisa o professionisti, c'era tutto un percorso molto più complesso, fatto a gradi, quindi voglio dire c'era tutta la parte della gavetta di riuscire a capire, di crescere tecnicamente anche perché l'utilizzo delle macchine fotografiche era un pochino più complesso, c'era la pellicola, insomma quelle sono cose che sanno tutti, quindi in realtà questa cosa è nata perché mio padre aveva, era uno stampatore, uno stampatore professionale, quindi lui stampava sia a colori che in bianco e nero, ma lo faceva proprio di mestiere, c'era un laboratorio di stampa e sviluppo e quindi io sono sempre stato in mezzo a quella mia intellianza, io ho imparato prima a stampare che a fotografare, che già è una cosa importante, infatti tuttora ogni volta che realizza un progetto editoriale con una casa editrice ma anche con un'azienda, un corporate o un company profile o quello che è, io vado a fare sempre la messa in macchina in tipografia, vado a controllare tutto, è una cosa che fa parte un po' dell'essere fotografo un po' old, ok? Però è una parte importante, a parte quando fai i lavori con casa editrice, di libri, di storytelling, insomma lavori tuoi, personali o quello che è, per contratto devi andare a fare la messa in macchina, quindi vuol dire, è esunto, lo devi fare per forza, quindi, ok, quindi questo è diciamo l'inizio è stato così, è nato per queste motivazioni. Tu scrivi che non vuoi documentare ma raccontare, ti parli del tuo pensiero sulla fotografia? Sì, sono da documentare, raccontare, c'è l'esempio banale del fatto che se uno caggia e fa il turista con la macchina fotografica documenta, se fa il pellegrino racconta, sono due cose completamente diverse. Sì, in realtà io la penso così ma ci sono tanti colleghi illustri che la pensano in questa maniera, la fotografia è una sola, ovviamente la forma di comunicazione, il fotografo la prende e la utilizza, non voglio dire a suo piacimento ovviamente, ma la utilizza per il tipo di linguaggio che si è costruito nel tempo, questo è ovvio. Quindi il soggetto è relativamente importante, molto importante come lo racconti. Io faccio sempre esempio, anche questo apparentemente banale, quando magari parlo con ragazzi che fanno qualche docenza esterna o qualche workshop o quello che è, con ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere o che vogliono imparare a costruire un progetto fotografico, uno storytelling o quello che è, faccio sempre esempio di Parigi che è una delle città più visitate al mondo, turistiche, quindi uno va a Parigi e la prima cosa che gli viene in mente è di fotografare le trocate d'errore, la tutta Eiffel, bla bla bla, quello che c'è. In realtà uno si può tranquillamente rinchiudere dentro una boulangerie, stare tutto il giorno lì e può raccontare Parigi con altre sfumature. Quindi questo esempio apparentemente banale poi in realtà non lo è affatto, oppure dico sempre andate, fotografatevi il garage sotto casa o il bar sotto casa, cioè raccontatemi le cose che sono intorno a voi. Avedon è stato un grandissimo fotografo di moda, poi dopo tanti anni hanno scoperto delle fotografie che lui aveva realizzato quando andava a trovare la madre per le festività o quelle cose lì e hanno scoperto delle foto di racconto di quei giorni che lui faceva in quel contesto che erano incredibili. Il fotografo di moda ha dei canoni ben precisi. Quindi voglio dire ogni contesto può essere raccontato, ogni luogo può essere raccontato in maniera utile e questo secondo me è fondamentale. Non c'è una fotografia di serie A, di serie B. Questo vuol dire sono tutte. certezze, tutto è degno di essere fotografato, no? Tutto è degno di essere fotografato e di essere raccontato, ripeto, in maniera utile. Questa parola qui è importante, la fotografia deve essere utile, non deve essere bella, deve essere utile. Convieni con Benedusi che dice che chi conosce solo di fotografia non conosce niente di fotografia, perché chiaramente si sono d'accordo con lui, anche se spesso ci siamo scontrati, però è un personaggio particolare. Si, 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 però sono d'accordo, anche perché comunque è uno che ha tanta esperienza, anche lui, e quindi comincia ad essere grandino e non è più di primo pelo. Però è assolutamente d'accordo. Ascolta, parlavamo della moda, no? Tu nel 2000 fotografi, la moda con De Naste, quindi per Vogue, poi Architettura per AD, quindi è una rivista stupenda AD, me la ricordo dai tempi della scuola che l'avremmo, bellissima. Il fatto che tu ti sei formato da autodidatta, ti ha creato delle difficoltà oppure no? In realtà no, nel senso che… Ha dato un vantaggio alla fine. Sì, allora è ovvio che tutte le forme di comunicazione quando vengono intraprese bisogna avere un'attitudine, questo è chiaro. Chi fa il fotografo può avere l'attitudine, la curiosità, ci sono tanti aspetti che ti possono aiutare a utilizzare una macchina fotografica per raccontare delle cose, questo è ovvio. Se lo fai con una scuola, ce ne sono tanti di validissime, fai un percorso didattico e quindi è sicuramente utile, poi è ovvio che come tutti i percorsi didattici poi la scuola ti deve staccare a un certo punto, quindi da lì nascono altre difficoltà. Poi parlo sempre ovviamente per chi vuole fare a livello professionale, quindi a prescindere che uno possa diventare un autore o rimanga un fotografo professionista che vuole fare i matrimoni o qualsiasi altra cosa, il percorso è identico, proprio la crescita può diversificare per tanti motivi. Io non ho… il fatto che comunque già a 15 anni sono andato in uno studio dove scattava un interior design, a livello tecnico sono quei luoghi dove puoi avere una preparazione pazzesca di base, quindi puoi assimilare veramente tante nozioni tecniche che ti porterai dietro tutta la vita e che ti aiutano. Poi la crescita ovviamente c'è sempre, a un certo punto l'acquisizione tecnica, una volta che hai intrapreso quello che devi intraprendere basta, nel senso che te lo porti dietro e lo applichi esclusivamente per tirare fuori il tuo linguaggio per la parte più creativa. Però la base tecnica è fondamentale, se non hai quella… questo sempre ovviamente da un fotografo che ha 50 anni e che è cresciuto in un periodo, io ho vissuto praticamente tutti e due i passaggi dalla pellicola digitale, quindi alla fine non è cambiato assolutamente nulla, cioè sono cambiate le tematiche lavorative, sì sì, però la macchina fotografica è sempre quella e quindi la devi utilizzare sempre nella stessa maniera, non è che è cambiato molto. Quindi in realtà non mi ha svantaggiato, magari altri hanno bisogno di fare un percorso didattico preciso e altri possono essere autodidatti, non è che una cosa esclude l'altra. Certamente. Ascolta, tu hai fotografato diciamo un po' di tutto, l'architettura, il ritratto, la moda. Adesso vorrei far vedere delle immagini che tu mi hai mandato, che poi ho integrato perché sei stato un po' avaro d'immagini, invece ne hai talmente tante da far vedere, metto in condivisione una presentazione e cominciamo con un grande personaggio. Ecco, lo stai vedendo? Sì, sì sì sì. Allora, chi è questo personaggio per chi non lo conosce? Allora, lui è stato, è un musicista ovviamente, ed è stato il batterista storico dei Police, band inglese, che negli anni 80, esatto, che negli anni 80 sono stati i caposaldi della seconda British Invasion, insomma stiamo parlando di una band che ha venduto più di 80 milioni di dischi, insomma una band che penso che conoscano tutti. Detto questo, questo lavoro è particolare perché, non parlo fotograficamente, fotograficamente l'ho realizzato per Rolling Stone e per Musica Jazz, perché Musica Jazz, che è una rivista molto interessante, forse l'unica rivista rimasta in Italia che ha dei contenuti importanti a livello musicale. Copeland ovviamente non è un musicista jazz, è un musicista rock. È un batterista. Sì, stiamo parlando di uno che è stato messo tra i 100 migliori batteristi della storia del rock al decimo posto, e stiamo parlando di un personaggio importante, in più è un compositore, ha lavorato con Francis Ford Coppola, con Oliver Stone, stiamo parlando veramente di un genio musicale. Detto questo, Musica Jazz fa una rubrica molto interessante che si chiama Circus, dove ogni numero inserisce un personaggio della musica importantissimo, mondiale, che però non è un musicista jazz, ma ovviamente ha tante cose, tante sfaccettature, tante cose interessanti da poter raccontare alla comunità dei musicisti. Quindi questa è la premessa. Come siamo arrivati? Siamo arrivati a lui tramite… in realtà l'avrei dovuto fotografare, questo è il lavoro dell'anno scorso, del giugno 2019, l'avrei dovuto fotografare un anno prima a Firenze, che era venuto per un altro progetto suo, e sono rimasto bloccato con il treno tra Bologna e Firenze e con la neve. Ah, ti vedo. Sì, ecco, detto questo eravamo rimasti d'accordo che poi sicuramente ci sarebbe stata un'altra occasione, appena si è presentata, ci siamo rimessi in contatto, insomma, in realtà hanno fatto una richiesta al manager e hanno dato l'ok definitivo e abbiamo fatto questo lavoro. La cosa interessante è che lui è un mio idolo quando avevo dieci anni, quindi cosa succede? Nel momento in cui io ne ho fotografati tanti di personaggi, poi dopo lo vedremo, quando si sente che tu vai a fotografare un personaggio mondiale, perché alla fine è un personaggio mondiale, assolutamente sì, che è stato ed è un tuo idolo tuttora, devi a livello professionale completamente scendere le due cose, cioè non puoi assolutamente farti prendere da… Io vabbè, io sono abbastanza tranquillo in quel senso qui, però si va lì perché c'è un incontro tra due professionisti, lui ed io, quindi dobbiamo lavorare, tirare fuori delle cose e basta. Poi è ovvio che erano state mandate delle immagini al manager per far vedere che tipo di fotografie io volevo realizzare. Un'altra cosa molto importante è che faccio con tutti quelli che ho fotografato, ho fatto con tutti quelli che ho fotografato negli anni che possono essere musicisti, sportivi o quello che è, faccio sempre una ricerca prima, cioè cerco innanzitutto a vedere delle interviste per vedere come lui si approccia con un interlocutore, a vedere tutte le fotografie che gli sono state fatte negli anni e come si approcciava con la macchina fotografica. In genere lui è uno molto allegro, ha molta energia, quindi mi sorride sempre. Io volevo realizzare qualcosa di molto più introspettivo perché lo stile che mi piace più è quello, quindi mi interessa il viso e questa cosa gli è stata comunicata e lui ha capito subito, gli ho fatto vedere degli esempi, c'è stato subito feeling e ne abbiamo lavorato. Poi tra l'altro in questa foto che tu hai messo ci sono anche, come dire, lo scatto deve essere anche fatto in funzione degli ingombri perché questa è una doppia pagina e si deve andare al testo con i fonti e via dicendo, quindi devi ragionare anche in quel senso lì, quando fai un lavoro editoriale, quindi hai tutta una serie di aspetti complicati. In più lui mi aveva dato la possibilità di fotografare o dopo le prove all'ora di pranzo o la sera, due ore prima del concerto, io ovviamente sono arrivato la mattina, ho detto no no facciamo dopo le prove, ho avuto il tempo di fare un sopralluogo veloce e di trovare due punti per poter scattare le fotografie, uno è questo qui, è questa entrata qua dove c'è questo panno nero, è l'entrata del teatro, dove ho realizzato le due fotografie precedenti, quelle più introspettive, questa e questa, esatto, con la luce naturale. Ok? Invece quella dove c'è la scritta l'ho realizzata sotto il palco, dove c'erano i tralici, dove ho fatto anche l'intervista, con una luce che ho portato io e ho lavorato io con una luce artificiale praticamente, che ho aggiunto io. Volevo avere due situazioni perché anche in questi casi quando hai un quarto d'ora di tempo devi trovare un paio di situazioni utili per avere delle immagini che possono variare anche per un fatto di impaginate, una serie di cose e quindi questa cosa qui a livello professionale è molto importante perché il fotografo esperto nel giro di un attimo capisce subito quali sono i punti giusti per portare a casa le foto utili, torno sempre alla parola di prima, questa è una parte molto importante. Quindi qui ci sono stati un insieme di cose, quindi il fatto che comunque andavo a conoscere un personaggio che per me è sempre stato un mito e lo va ancora, poi cosa succede? Che questi personaggi qui li conosci e più sono di alto livello e più sono persone... Sì, il manager è di Londra, inglese. Lui è statunitense, è nato negli Stati Uniti, però i police sono una band inglese, Sting e Andy Summer sono due inglesi. Chiudo dicendo che il lavoro è andato talmente bene che poi mi hanno proposto, io ho proposto, loro mi hanno proposto e alla fine siamo arrivati a un punto di incontro dove quando lui verrà in Europa, io lo seguirò nelle date per fare un po' di storytelling, prima del concerto, nel backstage, durante il concerto, insomma, il lavoro che faccio io. E purtroppo per via del Covid questa estate è saltata tutta e adesso è stato spostato tutto al prossimo anno, quindi aspettiamo di ripartire. Come la gestisci l'emozione in questi casi? Ma in realtà se hai concentrato su quello che devi fare, quando il soggetto in questo caso si capisce velocemente quello che vuole realizzare, io ovviamente avevo mandato delle immagini, ma mi ero portato dietro anche delle stampe dove fargli vedere, perché poi magari loro le vede che si dimenticano, le ho riportate, ho detto guarda questo è quello che mi interessa, mi interessa, se troviamo subito il feeling ci metto 5 minuti in realtà, ci ho messo 10 minuti, ho fatto prestissimo e lui ha capito subito e si è subito, come dire, reso disponibile, poi in realtà alla fine in quel contesto sempre, soprattutto nel contesto del ritratto, è il fotografo che comanda e lui decide che spazio, qual è lo spazio, se vuoi stare più vicino al soggetto, se vuoi stare più lontano, se il soggetto ha bisogno, qui si apre un mondo che poi appunto andremo di volta in volta anche con altre immagini a spiegare. Perché abbiamo parecchi ritratti, quindi poi ci parliamo. Questa invece è la copertina dell'album triplo, giusto? Sì, questo è la raccolta dei vent'anni della band, dove hanno unito una serie di pezzi, una serie di cose e hanno utilizzato una serie di mie fotografie, adesso questa è solo la copertina, in realtà c'è anche tutta una parte dentro che è molto interessante, anzi più interessante. Perché hai fatto un lavoro particolare. Esatto, ho fatto un lavoro particolare, in realtà il lavoro particolare deve uscire, questo qui è stato una cosa nata che mi hanno proposto perché hanno visto le fotografie, infatti le fotografie che ho utilizzato qua non saranno le stesse che ho utilizzato nel volume che sta per uscire. Sì, la cosa è nata così, avevo nel cassetto un progetto di racconto, di storytelling su un componente di questa band, uno solo, non tutti, che si chiama Max Casacci, che è esattamente lì, di fianco a me, che non è il ragazzo con gli occhiami, ma è l'altro con la giacca, che è un grandissimo musicista italiano, produttore, visionario ed è stato, ed è il fondatore di Simsonica, quello che ha scritto soprattutto nella prima parte di Historia della Band, i pezzi più importanti, insomma quello che aveva un po' la gestione di tutto, essendo anche più grande perché è sette, otto anni più grande degli altri componenti e volevo raccontare lui perché già conoscevo la sua storia di musicista prima dei subsonic, mi è sempre affascinato. L'ho incontrato, gli ho proposto questa cosa e abbiamo realizzato il progetto che è durato in tutto perché il libro uscirà entro la fine di novembre, questo è un racconto di storytelling, editora civile editoriale, dove dentro ci sono delle prefazioni, non so, per esempio di Dennis Curti, che magari chi è appassionato di fotografia conosce, che è uno dei curatori italiani più importanti, il direttore della Treocci di Venezia, anche lui persona squisita. È stato direttore del fotografo, un sacco di cose. Sì, sì, è stato direttore. Facciamo delle eco, non finiamo più. Sì, esatto, Dennis poi che ovviamente ha curato il progetto a livello fotografico, poi dentro c'è anche la prefazione di Per Paolo Pitacco, che è un altro grande, è un art director importante, ha lavorato per Harper Bazaar, per Wobobog, per Rolling Stone ed è quello con cui sto collaborando ultimamente, ad esempio i contenuti del lavoro su Copeland li ha curati lui, e c'è anche una soprefazione sul libro, poi c'è anche Pistoletto, quello dell'artista, perché ha collaborato con i Sixor, che anche lui ha scritto una cosa, quindi è un progetto che darà sicuramente uno spartiacque alla mia carriera, perché il progetto è stato grande, perché sono alla fine veramente quattro anni, insomma non vedo l'ora che esca. E questa cosa qui è particolare perché io ho raccontato solamente uno, un soggetto della band, e ho non scelto di raccontare tutta la band, perché proprio per il discorso che facevo prima, Max è stato il fondatore. Prima di, sono stato a Torino, perché loro sono di Torino, una città che non conoscevo, lui me l'ha fatta conoscere, mi ha portato nei luoghi storici che loro frequentavano, da giovani, Murassi, Piazza Vittorio, Vanchiglia, tutte quelle zone di Torino dove c'è un grande fermento artistico, Torino è una città particolare, essendoci stata, diciamo, la spinta della Fiat, a un certo punto le persone hanno rotto le catene, esatto, hanno e il fermento artistico, soprattutto nella musica, è esploso negli anni 80, a metà degli anni 80, prima di loro, loro sono esplosi negli anni 90, però tutti hanno iniziato nel primo anni 80, quindi prima di riuscire a capire bene, questa è una cosa importante a livello fotografico e fondamentale nello storytelling, prima di raccontare un luogo, una persona, quello che bisogna capire, tutta una serie di incaste e convergenze che succedono nei luoghi o convergenze che succedono tra le persone, perché se non avessi visitato Torino, io primo mese e mezzo non ho mai usato una macchina fotografica, Max mi ha portato, lo ascoltavo, osservavo e prendevo informazioni, capivo informazioni, da lì ho capito il perché i testi di subsonica o la musica di subsonica ha quel tipo di sonorità o ha quel tipo di linguaggio, perché Torino è una città che vive quelle cose in maniera diversa rispetto ad altre città della musica, mi vengono in mente Catania, Bologna, Milano, nella storia ce ne sono state tante, Firenze, o l'Emilia, quello che è, quindi ogni luogo tira fuori il fermento artistico in funzione alla società, è una parte che ho acquisito proprio perché non conoscevo Torino e poter fare questo tipo di progetto è fondamentale, perché se no il discorso che facciamo prima, se tu racconti il luogo da turista lo documenti, se racconti un luogo da pellegrino appunto lo racconti e se non capisci informazioni e se non riesci a percepire tutta una serie di cose fai fatica poi a utilizzare la fotografia nelle utilità che deve avere, quindi questa parte qui è stato un lavoro complesso, non è stato semplice, anche perché poi i turinesi sono un popolo molto particolare, non sono proprio molto locale. Siamo particolari e unici, ma questa è una ricchezza. Sì, assolutamente, nel senso che sono molto chiusi, c'è Torino e Uber Alice, quindi c'è Torino e basta, quindi anche entrare nei meccanismi del torinese non è semplice, sono molto chiusi, ma lo sanno anche loro, quindi è stato un lavoro anche proprio in questo senso, non semplice, però finalmente siamo arrivati in dirittura d'arrivo e va bene così. Allora, guarda Rossano, ho voluto mettere questa locandina di questo incontro che hai fatto online con Leonello Bertrucci, che immagino che tutti conosceranno, perché… Docente bravissimo dell'Istituto Italiano di Fotografia, dove tu collabori spesso, con cui collabori spesso. Sì, sono stato chiamato, questa cosa qui è stato un talk che in realtà avevamo fatto due anni prima dal vivo, cioè direttamente dentro la scuola, più o meno con gli stessi temi, perché per i ragazzi che studiano fotografia è utile avere degli input da un professionista per capire tutta una serie di meccanismi… Ma certo, certamente… Professionista autore in questo caso, perché poi si parlava… esatto. e quindi è molto importante a livello formativo, è molto utile per i ragazzi. L'ho voluto mettere per il titolo Rossano, per fotografia ci vuole orecchio, ci vuole orecchio perché bisogna… tu sei un batterista scoperto. Io sono, vabbè, io sono un batterista per passione, negli anni quando ero più ragazzo ho anche studiato un po' da un maestro, i ludimenti, queste cose qua, tuttora una volta a settimana suono e quindi… sì, ci vuole orecchio per fotografare, perché tra la fotografia e la musica ci sono delle similitudini per quanto mi riguarda. Per esempio, avendo frequentato dei musicisti di un certo livello, appunto come i Sub e come Max, per loro la musica è l'essenzialità, cioè nel senso, meno note ci sono e più tutto funziona per una serie di motivi, può essere qualsiasi cosa, tutto, cioè tutto quello che riguarda, sia tecnicamente che a livello creativo, l'utilizzare meno note possibili è la cosa che poi negli anni, non sovrastrutturare troppo quello che crei, negli anni li ha portati a migliorarsi sempre di più. Nella fotografia secondo me è la stessa identica cosa. Uguale. Uguale. fotografia con uno spazio interpretativo più ampio, cercare a tutti i costi la foto che possa colpire, secondo me è controproducente e anche, voglio dire, un po' l'errore che si cerca di fare o all'inizio di una carriera o magari quando devi per forza avere il consenso su qualcosa, cioè in realtà la fotografia come tutte le forme di comunicazione è una cosa che quando ti deve venire anche in maniera molto naturale e quindi il non sovrastrutturare le immagini come non caricare una traccia musicale di troppe note ti dà quella pulizia che poi quando una foto la inserisci vicino a un'altra, quando fai editing, quando cominci a vedere che il tuo progetto sta venendo fuori, le tue immagini cominciano a funzionare, quella parte lì è fondamentale perché, diciamo, io vedo spesso, mi confronto spesso con ragazzi, ma anche con fotoamatori che magari, ecco, con i fotoamatori per esempio è ancora più difficile perché magari negli anni si sono creati delle certezze e quando tu per una serie di motivi gli sgretoli si trovano in difficoltà, invece in realtà è molto interessante questa cosa, cioè riuscire a percepire che fino a quel momento lì ci è fatto un percorso e se uno vuole fare uno step per creare delle immagini che abbiano ancora più, come dire, utilità nelle interpretazioni di chi poi le andrà a vedere, perché è chiaro che quando tu realizzi delle fotografie o un progetto quello che è, non puoi avere la presunzione che chi poi lo vedrà avrà i tuoi stessi input o quello che tu hai provato o le stesse cose che tu vedi sulle tue fotografie. In realtà, chi fa il fotografo deve avere anche qualche altra forma di comunicazione che può essere qualsiasi cosa da poter utilizzare in più perché in ogni caso può essere utile. E' anche vero che, dopo vedremo le foto degli atleti, io faccio anche sport, ho fatto sport… Sì, ho fatto sport… Esatto, quella è anche un'altra cosa sicuramente importante e alla fine parlando con loro, poi vedremo, si parla di gente che ha vinto mondiali… Allora, condivido di nuovo il schermo… Sì… Eravamo arrivati qui… Allora, sempre parlando di musica… Parlasi di questa… Allora, loro… Questo è sempre uno shooting, sempre per musica jazz, sempre il discorso di prima, inseriscono dei musicisti che non sono dei gestisti perché possono avere… Comunque trasmettere delle informazioni, degli input interessanti. Loro si chiamano i The Producer e in questo progetto c'è sempre Max, che è appunto il fondatore di Subsonica, poi abbiamo Riccardo Sinigaglia che è un cantautore, produttore italiano secondo me bravissimo, di grande talento. Sulla destra di qua c'è Vittorio Cosma, altro produttore, Elio Restolettese, Pino Daniele… E anche lui ha lavorato spesso e lavora spesso con Stuart Copeland per vari progetti. E l'ultimo a sinistra è Maroccolo, che è lo storico bassista dell'Elite FIBA. Loro quattro hanno dato vita a questo progetto che si chiama The Producer, dove hanno unito la musica con la scienza. Sono al terzo album, il primo è Planetario, poi c'è l'ultimo… Adesso non mi ricordo i titoli. Va bene. Botanica, Planetario, Botanica e DNA. Quindi loro hanno realizzato proprio della musica dove… Giravano i teatri, girano i teatri con il primo album con Peri, che era il direttore del Planetario di Milano. Lui raccontava davanti al pubblico, quindi era presente anche lui sulla scena, sul palco, raccontava quello che c'è intorno a lui, quindi di vari pianeti, di sistema solare, con la musica di sottofondo e realizzata da loro. E non solo di sottofondo, proprio c'era anche il concerto tra un racconto e l'altro. Stessa cosa ha fatto con la botanica, quindi il mondo delle piante, e l'ultimo progetto col DNA, quindi il mondo legato al corpo umano. La genetica, sì. Esatto, la genetica. Quindi hanno realizzato una cosa veramente, veramente molto interessante. E in un mondo musicale, diciamo… Nel mondo musicale di oggi, dove il livello della musica, diciamo pop, non è che sia proprio interessante come qualche anno fa, loro riempiono i teatri, cioè la gente li va ad ascoltare, quindi stanno facendo qualcosa di molto rivoluzionario in quel senso lì. E io qui li ho fotografati alla fine dell'anno scorso, a novembre 2019, al Teatro Dal Verme a Milano, che è un teatro bellissimo tra l'altro. Niente, il solito concetto, anche qui… Fotografi quello che non è ovvio, insomma. Qui adesso, questo è un lavoro ovviamente editoriale, quindi la fotografia dei loro quattro insieme… Ci sono anche magari alcune volte dei vincoli dettati da loro, dal fatto che comunque non vogliono essere… Io li ho fotografati anche separatamente, facendo dei ritratti, alla fine hanno deciso di utilizzare questa e altre fotografie del backstage o altre cose se non ricordo. Però comunque, in ogni caso, questa immagine qui è sempre comunque un lavoro autoriale, quindi devi fare la scelta del luogo. Io ho scattato questa fotografia sopra il tetto del teatro, ho visto che sopra le luci, praticamente, è un luogo che tra l'altro non si potrebbe… nemmeno era anche… non proprio sicurissimo, ho visto che c'erano i tecnici delle luci che si camminavano sopra e quindi ho detto voglio andare a fare un giro lassù, e ho visto che c'erano degli angoli che mi interessavano con queste luci, questi neon, e ho trovato i punti e ho lavorato lì. Devo dire che il risultato è stato interessante. Ritornando un attimo a queste immagini di Subsonica, tu non hai fotografato gli spettacoli ma sempre… No. Dietro le quinte… Sì, 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 sì. Questo è lo scenario prevalentemente. Io ero sul palco e mi interessava assolutamente tutto quello che succedeva da dietro, oppure… ma io ho fotografato anche non i concerti, cioè i punti luoghi di Torino, altre cose che non erano dentro i concerti, però prevalentemente all'interno del progetto ci sono foto del concerto, ma tutto quello che succede intorno o sfumature e sfaccettature di cose che, per esempio, chi è là sotto non vede, che fa parte del pubblico non vede. Quindi anche momenti di interazione tra di loro sul palco, cose che vedono esclusivamente i tecnici, ho fotografato anche lì le convergenze, le cose che succedono tra di loro, perché poi la crew, diciamo lo staff, tutto quello che lavora intorno a una band, che comunque è una band importante, si parla di una band che fa comunque i palazzetti pieni, Milano, Roma, Torino, quello che è… Io sono stato anche all'estero con loro, hanno suonato nei club a Amsterdam, al Melbeg, cioè club dove hanno suonato Nirvana, non so, i Beastie Boys, insomma club importanti. Diciamo che lì si crea, tra di loro c'è proprio una sorta di grande unione, quindi con tutti i backliner, i tecnici del suono, quelle luci, e quindi la mente restava molto… Devo raccontare una cosa diversa. Sì, sì, ci sono anche molte fotografie di loro, ma non mentre lavorano, ma esclusivamente nei passaggi, e quella è una cosa importante. Nel nostro storytelling, per quanto mi riguarda, il passaggio tra l'inizio di un percorso e la fine è fondamentale, quello che rimane sollevato. Cioè, se tu sei un atleta, dopo lo vedremo con Fino Magnini, ma questa è la stessa cosa, mi interessa proprio raccontare i passaggi di vita che ti portano poi al tuo obiettivo finale, quella è la cosa che mi interessa di più, che è più affascinante. Quindi lo puoi fare con un musicista, con un atleta, con una persona normale che fa qualsiasi altro tipo di lavoro, non c'è differenza. Tu ti dedichi molto al ritratto, hai fotografato tanti personaggi famosi. Sì. Mi vuoi parlare un po' di questa storia con la Federica? Vabbè, con la Federica io l'ho conosciuta. L'hai iniziato a fotografarla? È un po' di anni fa, qualche anno fa. L'ho conosciuta nel 2011, allora finanziata con Magnini. Poi dopo per una serie di motivi non siamo mai riusciti a lavorare insieme finché nel 2017 è venuta fuori una concomitanza e abbiamo fatto questo primo lavoro che è comunque un lavoro di ritratto dove ho cercato di tenere fuori quella parte femminile di Federica che c'è ovviamente e che non riguarda assolutamente tutto il di fuori del... Per esempio questa foto qua, ma anche quella prima, qui in pieno inverno erano tipo uno o due gradi più viginava e lei, cioè voglio dire... Si è prestata. Ovviamente sì, però era molto concentrata perché anche lì c'è stato subito un feeling lavorativo importante che lei si è fidata. Poi queste sono persone che comunque sono abituate a farsi fotografare perché è successo tantissime volte tra campagne, riviste, quindi ha lavorato con tantissimi fotografi e quindi riescono a capire subito... questa è per esempio due anni fa la campagna per Jacked, sì esatto, Jacked è un suo sponsor tech in cui io avevo lavorato in studio, quindi è un lavoro più commerciale questo e questo è una cosa... ecco, questo passaggio sottile è fondamentale. L'altra parte, l'altro tipo di fotografia, che è questa qua, che è proprio di ritratto, tu devi instaurare appunto un rapporto di feeling dove la persona fotografata si fida e si concede completamente e per quello che è la pioggia e il freddo, ma lei era concentrata, ok? Adesso chi ci ascolta ti chiederà, come fai a stabilire questo contatto con le persone che fotografi? Innanzitutto, in maniera iper banale, quando tu a chi stai fotografando dai già una sorta di storyboard, un percorso, in maniera molto sicura, del tipo scatteremo lì, lì e lì, ok? Stop! Quindi già la sicurezza nel esprimerti e nel comunicare a chi stai fotografare l'idea e come la vuoi sviluppare dà una sorta di sicurezza dall'altra parte, anche se sono abituati. Posso raccontare un aneddoto dove mi è stato detto, adesso non faccio il nome, del personaggio che è capitato che il fotografo era abbastanza agitato, ha cominciato a dirgli guarda sì mettiti così, però mettiti così, però fai così, però scusa, e se facessi così? Lì quando ha cominciato a fare le domande il fotografo alla persona che stava fotografando, lì dall'altra parte è la fine, nel senso che tu non hai più di fronte a te la persona che... Crei confusione. Sì, crei confusione, voglio dire, e questa è una parte molto importante, quindi sicurezza che viene data ovviamente da una serie di fattori, dall'esperienza, da anni di quel tipo di lavoro, dal carattere, da tutta una serie di cose che sicuramente sono importanti. Poi nel ritratto, come dicevo prima, quello questo, il fotografo decide, prende uno spazio e gestisce lui tutto. Quindi chi ha il ritratto viene assolutamente accompagnato dove vuole il fotografo. Questa è una parte molto importante. Poi ovviamente c'è il discorso della fotogenia, che è un'altra parte molto importante, ma è un discorso un po' troppo complesso da intraprendere qui stasera, perché è anche abbastanza noioso. Invece dall'altra parte, la foto quella della campagna, ecco questa qua, questa è ovviamente una foto di backstage, qui hai 30 persone che ti girano intorno e in quel contesto lì, questo è un lavoro venuto dopo quello che abbiamo visto prima. Ovviamente con Federico ho approcciato e ho parlato con lei quei pochi minuti prima del servizio, spiegandole che non era la stessa cosa, che prima gli scatti precedenti dovevano raccontare lei e tirare fuori quella parte di lei che molti non vedono perché la vedono nuotare, vincere o quello che è, o parlare in televisione o quello che è. Qui c'era lei, ma c'erano anche i capi del suo sposo tecnico, quindi doveva venire fuori sicuramente la figura di Federico perché è il testimonial. Però dobbiamo venire fuori anche i capi, i colori, i tessuti, le lavorazioni, quindi c'è un aspetto tecnico da curare in più. In più hai 30 persone, 25 persone, tra style, trucco, quello e quell'altro, che tu devi gestire. Io ovviamente quando ci sono queste cose qui si va il giorno prima, con tutti quanti si chiacchia, si cerca di capire insieme quali sono i punti dove fare le fotografie, quanti sono gli outfit, io istruisco la truccatrice, insomma… Quindi decidi sempre tutto tu però, nel senso, sei il regista della situazione. Il fotografo regista della situazione. Quando tutte le persone che sono all'intorno vedono che il fotografo ha in mano la situazione, è tranquillo, rilassato e contento, poi capita sempre, ah Federica arriva alle 10, abbiamo questi orari qui, c'è chi è sempre agitato, eh? Io dico, ragazzi, tranquilli, organizziamo tutto in più, domani è giorno di shooting, quindi vuol dire il giorno di shooting è un giorno bello. Cioè, voglio dire siamo qui a fare un lavoro bellissimo, tutti insieme, ci possiamo divertire rimanendo concentrati, sicuramente senza tensione le cose vengono fatte meglio, no? Quando vedo qualcuno che è troppo agitato, si muove troppo, per esempio in questo caso è successo, ho fatto mettere una parete, con me facevo stare solo la truccatrice, la stylist, gli altri tutti dietro, perché magari Federica poteva essere disturbata da questa cosa. Disturbata, certo. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Quindi tutto quello che succede, non solo davanti a te, ma intorno e dietro te, il fotografo lo deve percepire. E se lui è tranquillo, tutti sono tranquilli, in questo caso qua. Lei ha fatto 11 titoli, 11 record del mondo, ha vinto le Olimpiadi una volta, ha vinto non so quante volte gli europei, mi sembra quattro volte. Avendo attacchi di panico quando andava in acqua. Esatto. Perché lei ha sofferto per molto tempo. Esatto, ha dovuto fare un percorso importante. Questa frase qui l'ho scritta io sotto una fotografia pubblicata su mio Instagram l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, quando ha vinto l'ultimo mondiale, perché nel 2016 le Olimpiadi l'avevamo data per finita. Esatto. Poi ha rivinto due mondiali di fila. E questa è una frase che io ho messo sotto una sua fotografia, ma siccome avendo fotografato tanti altri atleti del suo livello, tutti quando parli con loro ti dicono questo, che è sicuramente difficile fare a vincere, ma mantenersi a quel livello lì per tutti quegli anni è una cosa molto più complicata. Soprattutto in uno sport come il suo, dove voglio dire il nuoto, io ovviamente l'ho visto allenarsi, l'ho visto i suoi allenamenti dal vivo. Stiamo parlando di uno sport veramente tosto. Sei da sola, dentro l'acqua, andi indietro. Cioè devi avere delle motivazioni importanti per riuscire a mantenerti sempre a quel livello lì. Però questa è una prerogativa di tutti gli atleti. Questa frase però la possiamo applicare anche alla tua professione? A tutte le professioni? Secondo me sì. Per fare il fotografo a un certo livello è dura o no? Fare il fotografo a un certo livello è molto dura, è durissima sì, molto dura. Questa è sempre Federica… L'anno scorso quando l'hai fatta? No, questa l'ho fatta adesso, a giugno, i primi di giugno. Quindi adesso, proprio adesso, recente. Sì sì, appena c'è stata la possibilità di muoversi tra le regioni, ho preso il primo treno e sono andato su a Verona. Questi sono dei ritratti realizzati subito dopo l'allenamento, con una luce naturale. E qui, per esempio, l'approccio, questa parte qui è molto interessante. Perché ero stato da lei perché dovevo fare delle foto sia la mattina che il pomeriggio. Quindi pomeriggio però un'altra cosa. Quindi lei aveva piacere che le facessi alcuni scatti durante l'allenamento, ma ovviamente sempre in stile storyteller. Quindi a lei non interessava la performance sportiva, ma tutta una serie di sfumature che si possono essere intorno. Poi mi interessava realizzare questi ritratti qui e alla fine, poco prima che uscisse, le ho detto, lei era dentro l'acqua, io fuori. Le ho chiesto, appena esci, fai esattamente, in maniera naturale, e non lo voglio sapere, non me lo devi dire. La prima cosa che fai ogni volta che esci dall'acqua, in maniera naturale, falla, però appunto non la voglio sapere. E lei toglie gli occhiali e comincia a sistemarsi i capelli. E quindi mi sono messo lì, ha cominciato a fare questa cosa, e ne è nato una serie di scatti, e questi sono solo un paio, due o tre. veramente, veramente forti, tanti. Quando tu fai questi ritratti, il personaggio si ritrova in quello che tu rappresenti? Sì, in realtà il segreto sarebbe che quando uno non si vede nelle fotografie, si vede in maniera diversa, vuol dire che è positiva questa cosa. Però sì, sì, assolutamente sì. Anche perché lei è una molto esigente in questo senso, molto selettiva. Quindi tutte le fotografie che vedete pubblicate è perché lei le ha approvate. Sì, 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 assolutamente. Perché stiamo parlando comunque di un personaggio importante perché nel suo sport era numero uno, questo, ma non a livello italiano. È una che rimane nella storia a livello mondiale, nel nuoto. Però ovviamente è una persona molto richiesta da giornali, da televisioni. Stiamo vedendo delle copertine adesso. Esatto, questa è una cosa ancora più fashion, però comunque tutte queste fotografie sono state approvate da lei. Questa qui è una foto che è andata dentro il volume, ma anche quella che abbiamo visto dove c'erano due gradi. Non quella dietro la rete, ma quella proprio frontale. Quella è questa qui, è un'altra che adesso non ricordo. Sono andata a finire dentro questo volume, questo libro, Celebrating Mad in Grazia. Queste foto che io avevo realizzato per un altro progetto. Grazia ha fatto il volume per i suoi 70 anni, 70 anni. 80 anni, bravo, 80 anni. È vero, 80 anni. Penso la rivista è una delle più antiche che ci sono, che è ancora in circolazione, quindi stampate regolarmente. E loro cosa hanno fatto? In questo caso hanno fatto un volume celebrativo dove hanno raccolto tutte le eccellenze italiane, sport, cinema, cultura, medicina, politica, tutto. Tutto quello che uno può mettere dentro le hanno raccompate lì, fotografate da vari fotografi, più o meno con una carriera più o meno importante, ma comunque tutti i fotografi che avevano già fatto un percorso di un certo tipo. E lei ha scelto queste fotografie per farsi rappresentare, quindi sono state quelle che le avevo fatto io. E quindi è stata una grande soddisfazione, perché comunque dentro ci sono fotografi anche di generazioni un pochino più grandi della mia, di nomi molto conosciuti. Sì, quindi vuol dire, a parte questo è stato molto soddisfacente come resa finale del volume, ha fatto un volume di pregio, quindi è stato molto bello come cosa. E questa è un'altra pubblicazione che vorrei la sera. Sì, esatto, anche se qui è la copertina, ma siccome è un inserto, hanno inserito una marea di cosine intorno. Vabbè, questo è normale. Vabbè, ok. E questa è un'altra pagina dietro. Sì, anche qui, ripeto, tutte le fotografie che avete qui sono state tutte approvate. Approvate. E poi invece veniamo ai personaggi nei fotografati tantissimi, sportivi. E poi ci sono anche alcuni di altri video. Allora, qui c'è, vabbè, questa è una foto di Valentino di… Del 2008. Del 20 anni fa. Del 2008, luglio 2008. Quando era partito per la California e che poi ha fatto anche un sorpasso. Esatto, esatto, esatto. Per il matrimonio storico. Ogni ritratto c'è un aneddoto, perché probabilmente ti… Allora, a parte che questo qui sono stati lavori fatti in pellicola, perché lo potete vedere dalla scansione, con una mamia 6x7. E quindi l'approccio anche lì era stato di certo tipo. Sì, questa è una foto che io scattai nel 2008, luglio, dove uno o due giorni dopo lui partiva per la California, dove fece quel sorpasso a Stoner, del Calatapis, una serie di cose. Valentino, anche qui, questa è un'immagine molto introspettiva, è stato super disponibile. Lui è arrivato molto in ritardo, io ero un po' alterato così e mi ha detto, ma te sei un po' arrabbiato? E ho detto, eh insomma, ma adesso la quadra la troviamo subito. E quindi io ero già pronto, siamo andati lì, gli ho spiegato velocemente, ecco questa mi piace ancora di più. Gli ho spiegato velocemente quello che mi interessava, lui si è messo lì e anche qui il risultato è stato interessante. Perché comunque sono immagini di Valentino che sinceramente non si vedono. Non si vedono. Anzi, no. Questa è la stessa cosa per Totti. Da qui in poi, questa è la stessa cosa Totti. Anche qui di aneddoti se ne sarebbero tanti da raccontare. Però una cosa si può dire, sono tutti professionisti, soprattutto sui calciatori, non fotografate alcuni. C'è sempre questa sorta di leggenda metropolitana, di nomea, del fatto che siano degli ignorantoni, che siano un po' così, quello e quell'altro. In realtà, quando raggiungi certi livelli, li raggiungi anche perché hai fatto dei percorsi educativi di un certo tipo. Non ti puoi permettere di comportarti, bisogna lasciare stare quello che succede dentro il campo. Dentro il campo è un'altra cosa. Totti, per esempio, è un super professionista, però con me lo è stato alla grande, ma so che lo è sempre. Super disponibile, molto semplice. Io avevo appuntamento alle 11 di mattina a Trigoria, che è il centro sportivo della Roma, che è molto fuori Roma, verso il sud. Ed era la prima settimana di settembre, quindi era anche abbastanza ancora caldo. Questo nel 2007. Lui aveva l'allenamento prima, io sono arrivato un'ora prima, anche lì ho scelto il posto, tutti molto gentili e super disponibili. Lui è arrivato alle 11 meno 5 minuti, finito l'allenamento, senza un goccio di sudore. E sai, dopo che fai la doccia, perfetto, si è messo lì, abbiamo parlato, mi ha detto, guarda, questo, questo e questo, così, così, così. Ho detto, ok, andiamo. Cioè, è un ragazzo tranquillissimo, ma con tutti, voglio dire. Un tanto scorro, eh? Sì, 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 sì. Questo è Carlton Myers, un cestista degli anni 90, molto forte. Lui, ecco, lui per esempio, al contrario di Totti e Valentino, che sono comunque due estroversi, lui è un introverso pazzesco, è una persona molto, molto chiusa. E con lui, questo, questo aneddoto, lo racconto perché è educativo a livello fotografico, può essere educativo. Per l'approccio, perché cambia, come dicevo prima, cambia per ogni soggetto. Da persona a persona. Da persona a persona. Lui è arrivato con gli occhiali da sole, ok? Scattavamo fuori, questa è un'altra foto, nel 2006. E ovviamente a mente restava gli occhi, sono fondamentali in questo caso. E lui mi ha detto subito, mi disse subito, guarda, io gli occhiali non li tolgo, perché sono un po' così, dimentico, non mi va. Ma io l'ho guardato in una fazzina di secondo, ho pensato, questo cosa sta dicendo, no? E stavo per dire cosa stai dicendo, ma ovviamente non gliel'ho detto. Non ho detto assolutamente niente. Lui si è messo dove si doveva mettere. Io ero da solo, senza assistente, in questo caso, questo tipo di fotografie lavoravo senza. Ho caricato la mamia, la mano, come si faceva con i rullini, 120, bla bla bla. E lui a un certo punto ha tolto gli occhiali da solo. Ha detto, vabbè dai li tolgo, senza che gli dicessi nulla. Diciamo, la morale di questa cosa qual è? Se io avessi forzato la cosa, gli avessi detto, guarda che ti devo fotografare il viso, voglio vedere gli occhi, bisogna che gli occhiali li togli. Ecco, lui si sarebbe chiuso ancora di più, perché essendo introverso, si sarebbe creato un muro ancora più difficile da scardinare. E quindi ho lasciato che le cose, sono stato fortunato, perché poi evidentemente l'ha percepito da solo, e ha tolto gli occhiali e è venuto fuori questo ritratto, che io personalmente, di quelli che ho fatto, è uno di quelli che mi piace di più. Luce ha la faccia importante. Stessa cosa di Rosolino. La particolarità di queste foto è che qui siamo a Roma, al piscino del Foritalico, quella costruita nel ventegno, quella dove c'è anche lo stadio olimpico, che è una piscina meravigliosa. Lui stava facendo, aveva quasi smesso di gareggiare gli sgoccioli della carriera, forse aveva smesso, e stava facendo ballando sotto le stelle. Qui fuori c'è l'auditorium, lì vicino c'è l'auditorium, e lui in una pausa, rimasti d'accordo che avremmo scattato queste fotografie, ci siamo incontrati dentro la piscina del Foritalico, e tutti e due abbiamo guardato dentro, per caso l'avevano svuotata, cioè non c'era l'acqua, che è ancora più bella. E lui mi ha guardato e mi fa, io lo so già cosa mi vuoi chiedere. Appunto, andiamo dentro. Quindi ci siamo calati dentro la piscina senza l'acqua, e abbiamo realizzato gli scatti lì dentro, e se voi guardate, dentro c'è questo muro qua, e quello è il muro della piscina, che andava giù quei due o tre metri abbondanti. E quindi questa cosa è stata molto interessante. Poi lui, vabbè, lui è un ragazzo fantastico, Rosolino è un ragazzo proprio, non so come dire, c'è proprio una persona di un'educazione, è tranquillissimo. E poi comunque c'è la fase importante, quindi poi anche qui c'è la luce naturale, insomma questo ritratto è venuto molto bene, insomma è una cosa che… Tu sei sempre un contrasto molto elevato nelle tue immagini. Dipende da quello che… Sì. Che vuoi comunicare. Sì, dipende da quello che sono scelte di linguaggio. Questo lavoro qui è un tuo lavoro personale o ti è stato commissionato questo ritratto? No, questi sono dei ritratti fatti per dei me, delle riviste, delle cose. Quindi sempre su commissione? Sì, sì, sì. Questo è Fiorello. Quindi tu devi cercare sempre qualcosa di diverso da quello che è stato fatto? Anche è una richiesta anche dalla rivista? Sì, sì, in realtà questo è sia un progetto che poi anche dei lavori commissionati, c'è un mix qua. Però in realtà non è così importante, è relativo, sì. È relativo, l'ho fatto ad esempio prima di Copeland. Magari alcune volte ci sono delle esigenze di spazi per inserire un testo, un font, quello che è. Allora lì devi trovare sempre, anche portare a casa delle immagini che possono essere utilizzate per quella cosa lì. altre vanno inserite in maniera più pulita, quindi le realizzi in maniera più pulita. Però qui il concetto, questo è Agostini, pilota. Grande Giacomo, sì. Esatto. Ecco, per esempio lui faceva fatica a guardare in macchina. Quella volta c'avevo l'assistente con me, con lui, e allora ho cominciato a parlare con l'assistente. Sì, perché riuscivo a trovare la quadra. Quindi non mi piaceva la situazione nè e invece poi è venuta fuori questa foto qui che a me piace molto. Questo è Klaus Di Biasi, che magari molti non conoscono, ma stiamo parlando di un campione assolutamente dello sport italiano. Sì, sì. Ha vinto mondiale, olimpiadi, tutto. E anche lui ha una faccia, ha un viso. Questa ovviamente è la foto fatta dieci anni fa. È il 2009, il tempo passa in fretta. E anche lui è un personaggio incredibile, ha un viso portante. Anche una persona culturalmente di uno spessore alto, elevato. E questo è il mini. Esatto, questa è una delle presentazioni che abbiamo fatto. Del volume. Esatto, su Beyond My Water. che è questo volume realizzato. Oltre la mia acqua. Esatto, in un paio d'anni di lavoro, dove io ho raccontato la vita di un atleta. Ho scelto lui perché lui è di Pesaro, anche se poi non vive, non ha mai quasi mai vissuto a Pesaro negli ultimi anni, perché ovviamente è sempre fuori per una serie di cose. Mi interessava raccontare appunto la vita, lo stesso discorso fatto con Max, poi dopo con Casaccio, uguale. Poi con chi ho usato un linguaggio diverso, ho usato il colore, e anche questo è stato un lavoro pubblicato. Ho sentito l'intervista che hai fatto su Radio DJ e lui era entusiasta. Il Radio DJ è un'entusiasta. No, ma è stata bellissima quell'intervista, perché io pensavo, sai, vai a occupare DJ, magari la fotografia, quello e quell'altro, invece in realtà si erano preparate delle domande molto pertinenti, dove è venuto fuori tutto un aspetto interessante del lavoro, che non è... Ovviamente Filippo è un ragazzo mediatico, ovviamente lui è una persona, in quel senso lì piace stare in televisione, quelle cose là. E quindi ho detto, vabbè, invece in realtà quando sono arrivato lì, tra l'altro prima di entrare, di entrare... Prima hanno fatto entrare a lui, hanno presentato una serie di cose, poi sono arrivato io in un secondo momento. A parte che è durata dieci minuti abbondanti, ma quando sei arrivato lì, che mi sistemavano un po' di cose, microfoni così, c'era il direttore di scena, che sapeva tutto, sapeva con chi avevo lavorato, che avevo fotografato, c'erano informati su tutto. E quindi le domande dei due presentatori sono state molto pertinenti, quindi è stata una bella esperienza. Parlando di lui, tu l'hai fotografato fuori all'acqua e lui diceva infatti, tutti mi fotografano, mi corrono dietro, quando vado nelle vasche in acqua, invece Rossano mi ha fotografato da perché c'è meno che in acqua. Una scelta di forza anche qui. Soprattutto non mi interessava, in questo libro adesso non si vede, ma c'è una foto emblematica che posso descriverla al volo. C'è una fotografia fatta a Barcellona, al Mondiale del 2013, dove io dallo molto lontano scappo un'immagine e blocco praticamente tutta la fila di atleti, era la semifinale, maschi dei cento stile che saltano in acqua, li blocco proprio nel momento in cui stanno per entrare con i piedi tutti in linea. Quella lì era l'immagine dove io finivo di seguirlo, nel senso che non mi interessava la gara. Esatto. Tutto fino a lì. Il progetto è stato anche perché l'aveva pubblicato l'Archivolto, che aveva pubblicato anche l'altra mia monografia iniziale del 2008. Sì, che dopo ne parliamo, adesso ce l'ho un po' davanti. Esatto. Che è una bella cascettrice che non c'è più. Questo è Marco Pellinelli, è un altro personaggio importante, è un giustista. Sì, 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 sì. Anche lui è un ragazzo proprio tranquillissimo. E queste sono le pagine appunto della pubblica. Questo è un magazine, sì, non mi ricordo, adesso comunque anche questo è un lavoro di ritratto dove abbiamo voluto anche dargli un... perché lui è molto appassionato di fashion, di vestiti. Quindi l'abbiamo anche un po'... abbiamo lavorato anche con uno stylist di quel tipo lì, con vestiti in una certa maniera. Però lui è così. Cioè, è un ragazzo tranquillissimo che è, voglio dire, con grande fatica è riuscito e dedizione ad arrivare ai massimi livelli del campionato NBA e ancora ci gioca. Quindi, voglio dire, comincia ad essere anche grande, vuole essere a 34. Questo è un lavoro fatto un paio di anni fa e anche questo è andato bene, quindi sono stati tutti contenti, lui è stato contento. Con lui è stato semplice, perché comunque è un ragazzo molto molto semplice. Però, in ogni caso, c'è sempre il primo approccio. Io lui, stessa cosa, non lo conoscevo, non ci avevo mai parlato, non l'avevo mai incontrato e quindi anche lì ho stato a vedere una serie di interviste, una serie di fotografie, quelle e quell'altro, per capire... Quindi è sempre importante prepararsi prima, avere un panorama di tutto quello che è stato fatto in modo da fare una cosa diversa. L'intervista è fondamentale perché l'intervista non è finita una partita, l'intervista magari che può raccontare la storia di una parte della sua carriera, dove comunque lui si mette a suo agio e si esprime in maniera come se fosse tranici, ok? Si libera. Esatto, quindi viene fuori quell'aspetto più umano, allora te, ascoltando quella cosa lì, capisci un po' come si approccia e sei già pronto e arrivi preparato, insomma, anche perché le tempistiche, tutta una serie di cose non è che puoi stare tanto a perdere tempo, è quella cosa lì fondamentale. Siamo un po' veloci che siamo lunghetti, allora, un altro progetto, Progenie, questo progetto che cosa racconta? Questo è un progetto sintetico che siamo già molto lunghi. Sì, sì, questo è difficile, purtroppo... Sarei qui fino a mezzanotte a discorrere con te. No, vabbè, ma raccontarlo in tre parole è complicato, comunque sto facendo questo progetto sul mondo Ultras, ho iniziato con le categorie più basse e per arrivare arriverò a quelle più alte perché è un mondo inesplorato e che è già stato restituito con un volume che è andato molto bene e adesso sto andando avanti perché sai, il mondo Ultras è un mondo sempre visto da fuori dove le persone sono sempre un po' distanti. I pite, sì, sì. Gli Ultras sono dei delinquenti, quello e quell'altro, poi in realtà quando ci entri dentro conosci i ragazzi ma poi è un lavoro complicatissimo perché riuscire a farsi dar l'ok da loro è stato un lavoro di mediazione non indifferente, quindi c'è un mondo molto molto ermetico ci sono delle regole molto precise all'interno delle curve di quello che è e soprattutto e poi chiudo perché questo è fondamentale una volta che tu che hanno capito che sei lì non per demonizzarli o per per criticarli ma per raccontare esclusivamente i rapporti d'amicizia le convergenze è sempre il suo discorso che ci sono tra di loro e hanno un rispetto grandissimo perché comunque l'amicizia tutte queste cose qui sono valori in quel contesto molto molto radicati e uno ci deve andare dentro per capire beh certo come tutte le cose bisogna conoscere per poter capire no? esatto allora e poi ecco i tuoi volumi questo è il primo che ti è stato pubblicato sì l'artivote di Cano c'è questa monografia presentata nel dicembre 2008 dove praticamente c'è una raccolta di lavori dal 94 al 2008 tutti i commissionari di tutti i generi no sì prevalentemente di architettura industriale c'è qualcosa anche di moda se è una moda ci sono capitato per caso io l'ho fatta perché perché ci lavoravo e mi pagavano ma non è mai stato un tipo di mondo che mi ha attirato più di tanto no non ti appassiona no no non mi appassiona e quindi la particolarità di questo di questo lavoro è che il 90% delle fotografie di questo libro sono state scattate con un banco ottico 10x12 quindi con pellicola piana e quindi è stato un lavoro anche complicato complicato certo logisticamente perché portarsi dietro tutta quella roba qui siamo a Milano la malpensa sono per esempio questa fotografia qua che è di un'elica quindi un'opera di ingegneria meccanica come la bianca mare la montanaria di navigazioni sì questa è della montanaria sì 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 sono qua di erano sono di fan e alla fine io mi approcciavo a queste cose come come un ritratto come fotografare un gioiello qualsiasi cosa non c'è differenza e questa è la pagina sì quella è la pagina sì 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 adesso invece vorrei passare a un volume più recente sì la città che hai visto due volte questo lavoro che hai fatto su Milano che è stato pubblicato da Corraini Edizioni Corraini Edizioni sì e questo è un importante volume che è stato presentato di recente sì perché l'anno scorso l'ho presentato alla Galleria Steel da Denis e c'era anche la Giovanna Calvenzi perché per chi non la conoscesse ma penso che la conoscono tutti penso no è la moglie del compianto Basilico è il grande foto editor lei ha scritto un prefazionamento questo lavoro e questo lavoro cosa consiste era la pagina della presentazione io ho raccontato Milano che ovviamente è una città che mi ha dato tante possibilità da livello lavorativo ovviamente perché la fotografia questa sono io la Galleria Steel qualcuno ha criticato la foto dicendo una signora non stava in piedi io ho risposto la Giovanna sta dove vuole sicuro ecco appunto lei decide quindi volevo far partire il video intanto che parli passando la musica ecco sì questo è il video di presentazione che ha fatto un ragazzo di fanno che si chiama Linchio molto bravo questo non è nient'altro che il backstage del lavoro che mi muovo per Milano a fare questo progetto che non è nient'altro che il racconto di un passaggio che Milano ha avuto dalle vecchie torri degli anni 50 alle ultime costruite adesso in zona Garibaldi eccetera eccetera perché Milano ovviamente stiamo parlando della città che ha fatto la storia del design nel mondo gioponti eccetera eccetera c'è stato un momento in cui non si è costruito più a Milano quindi la torre Galfa la torre Breda il Pirellone le torri degli anni 50 la torre Breda quella che c'era in piazza della Repubblica davanti questo è per esempio poste alle Grafonici tutte quelle costruite in quel periodo lì la torre Breda è stata la prima torre che è appunto il piazzale della Repubblica davanti alla stazione vicino alla stazione che era stata costruita più alta della Madonnina del Duomo di Milano perché durante il ventennio fascista era proibito nelle grandi città a Milano in questo caso costruire dei palazzi più alti della Madonnina del Duomo e la torre Breda è stata la prima che ha superato quella cosa lì poi dopo è arrivato il Pirellone e la Madonnina è stata se uno va in cima al Pirellone c'è la Madonnina lassù la stessa Madonnina che c'è sul Duomo di Milano c'è il Duomo sì ci sono tutta una serie di aspetti che fanno parte della cultura di questa città che io ho voluto raccontare in maniera molto discreta quindi come degli oggetti appoggiati sul suolo cittadino senza adesso questo è il video ovviamente le fotografie questo è il posto verticale sì esatto dove praticamente viene fuori l'essenza non mi interessava la parte architettonica mi interessava il paesaggio urbano ok non era importante far vedere la particolarità architettonica ma quello che sono degli oggetti comunque invasivi che si vedono adesso arrivi col treno a Milano vedi già la torre Cesar Pelli insomma vedi già tutte quelle cose lì prima le vedevi di meno quindi comunque questa parte qui raccontata con una visione molto molto pulita silenziosa senza creare delle immagini troppo impattanti poi se torni un attimo indietro un secondo solo ecco sono delle fotografie dove questo il pirellone la torre galfa vista da altri tipi anche qui comunque c'è stata una ricerca ho cominciato a guardare questi luoghi da occhi diversi da angolazioni diverse perché ero abituato sempre a vederli da un certo punto e anche qui i fili del tram queste cose qui i pali della luce sono tutte cose che fanno parte del paesaggio urbano non devono essere tirate via se no viene violentato il paesaggio questa è la torre la posta dei grafonici sempre in zona Garibaldi vecchia anche questa è negli anni 50 la scelta della luce delle inquadrature questo è il pirellone visto da un'altra angolazione insomma sono immagini di paesaggio urbano ovviamente il soggetto principale è la torre certo tu hai fatto diverse pubblicazioni ma purtroppo adesso parlarne sarebbe lungo passiamo all'ultimo progetto che ne dici? sì ecco questo è l'ultimo progetto recentissimo esatto questo l'ho scattato praticamente durante appena finito il periodo del covid questo era aprile maggio aprile sì sono delle foto molto particolari sono delle immagini molto particolari sono dei ritratti dei sono dei ritratti dei sanitari operatori sanitari medici infermieri chi guida l'ambulanza e quello che è qui di Pesaro o della sud di Manche Nord esatto lascia questa foto qui c'è un aneddoto interessante dove io non ho fatto altro che raccogliere o fotografare 65 tra operatori sanitari medici e ne verrà fuori un volume eroi minori perché perché durante il covid c'era tutta questa sorta di a parte la frenesia di fotografare le città vuote o le persone intubate o quello che è e questa sorta di di utilizzare questa parola eroi affibbiata ai medici agli infermieri eccetera eccetera e io sono rimasto abbastanza infastidito da questa cosa perché ho detto queste sono persone che questo mestiere lo fanno sempre lo facevano prima e continuano a fare quindi il concetto di questo progetto qual è? questa è la mia faccia il fianco al ritratto andrà un testo scritto da loro un pensiero totalmente personale scritto di pancia sul perché hanno deciso di fare questo mestiere perché ti ho fatto fermare su questa foto questa ragazza che poi l'hanno pubblicato la sua storia anche su di Idra Repubblica lei è un medico che si era licenziata alla fine del 2019 perché il fidanzato lavorava in Australia lei comunque era in Australia nel momento in cui scoprati il covid è tornata lei di Dobologna vive a Rimini tornata a Pesaro e quindi era lavorava qua è tornata a Pesaro da volontaria per aiutare quelli del pronto soccorso senza stipendio se l'ha fatto in maniera gratuita ha fatto del volontariato quindi è ritornata dall'Australia per andare ad aiutare i suoi colleghi che erano in difficoltà qui perché Pesaro è stata una delle città si colpite si colpite esatto e quindi scorrendo sono tutti sono tutti volti ritratti molto molto forti molto impattanti fatti in studio e non in ospedale ovviamente li fate dire in studio con un'illuminazione particolare insomma dove viene fuori molto gli occhi il viso insomma il concetto era che quello di raccontare con i loro visi e con il loro pensiero di sensibilizzare le persone che il pensiero non era assolutamente non doveva essere legato per forza al covid ma esclusivamente l'idea del perché uno aveva scelto questa professione certo scelto quel tipo di professione lì sì 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 tu per l'occhio di Rossano scegli una desaturazione un alto contrasto fai una scelta particolare anche qui sì 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 perché come è perché praticamente in questo caso qui sono i volti che raccontano oltre al testo ma è importante il volto perché il volto di una persona è come un paesaggio la fisionomia la fotogenia gli occhi il naso la bocca i peli i capelli sono dei particolari che fanno la differenza che raccontano la persona quindi devono in fuori in più devono essere totalmente inespressivi cosa vuol dire non far non sorridere non niente perché alla fine quello che viene fuori è appunto la fisionomia di viso e gli occhi che raccontano tante cose quindi lavorare con queste luci molto forti molto impattanti queste inquadrature molto strette e desaturare e caricare un po' il contrasto fa venire fuori molto di più il viso ed è violenta la cosa come dire questo sono io questa io sono questa e questo lavoro lo faccio sempre quindi non ti dimenticare di me ok questo è il concetto è stata fatta una prima divulgazione da Perimetro che è un portale di fotografia d'autore molto bello molto interessante che ha invito e sono di Milano che in realtà loro vogliono vogliono solo per ora raccontare storie che riguardano la città di Milano però quando hanno visto questo qui me l'hanno pubblicato lo stesso perché l'hanno trovato molto interessante questo è un medico cioè vuol dire ci sono cioè è un lavoro di ritratto molto molto forte e quindi è andato bene ho avuto un bel riscontro adesso ne vorrò fare un libro un tipo di ritratti ai quali non siamo abituati sì ci sono dei fotografi c'è un fotografo che si chiama Martin Scheller che a me piace molto dove qualche qualche input me l'ha dato ovviamente io ho poi lavorato in maniera diversa ma me l'ha dato io lo conosco da vent'anni ovviamente un fotografo tedesco che fa un solo ritratto però è un tipo di ritratto molto interessante perché comunque vengono fuori degli aspetti forti dalla persona no? poi comunque anche qui la desanimazione perché? è perché enfatizza molto di più il viso poi in realtà adesso qui in realtà il colore della pelle è abbastanza reale più che altro è contrasto sui tagli della bocca qui sotto sul collo vedi qua sotto si caricano quei contrasti lì quindi e poi la scelta delle luci sugli occhi che fa molto la differenza quindi niente adesso ne voglio ne voglio fare un ne vorrò fare un volume che avrà dei testi delle cose e che stavo parlando proprio oggi con Sebastiano che è di Perimetro ci sarebbe l'idea di presentarlo se ci saranno i tempi i termini su a Milano e va bene così poi anche qui il discorso vale lo stesso con il Valentino Rossi la pellegrini chi è la fine questo è l'applicazione di Perimetro la cosa di Perimetro si poi uno c'entra dentro sul sito e appaiono appare il testo di presentazione così alla fine anche con queste persone qui che sono tra virgolette persone comuni non conosciute diciamo l'approccio è sempre lo stesso comunque a prescindere per ogni persona devi capire come tirare fuori questo aspetto per fare stare tranquilli per fare in modo che capiscono quello che vuoi realizzare cioè non è semplicissimo non è semplicissimo non avere l'espressione non è semplice no no tirare fuori questa cosa questa cosa qua è molto complicato poi la bellezza la bellezza di queste immagini è la loro forza la loro violenza come dire la loro violenza sì sono impattanti sì esattamente così è un lavoro cui tengo particolarmente e mi adoro di pubblicarlo io stavo elaborando una serie di cose perché comunque c'è stato Alberto Giuliani che ha fatto nello stesso periodo il lavoro all'interno dell'ospedale che ha vinto il premio bellissimo stupendo lui ovviamente essendo un fotoreporter ha lavorato in quel contesto lì esatto ma ha avuto la grande intuizione Alberto fotografo fantastico quindi ha avuto l'intuizione come persona ha perso molto disponibile benissimo sì 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 sono bravissimo ragazzo e lui ha avuto l'intuizione di aveva sicuramente fatto anche delle fotografie di situazioni tragiche con persone intubate quello che è l'altro questa è una mia deduzione ha avuto sicuramente l'intuizione di realizzare quei ritratti con questi segni sul viso che hanno avuto un ottimo riscontro quindi lui ha vinto il premio meritatamente anzi sarebbe stato uno scandalo non darlo a lui perché ho visto anche altri lavori e obiettivamente il suo era il più interessante gli altri andavano un po' tutti sullo stesso verso sì sulla stessa esatto sulla stessa lunghezza d'onda ovviamente questo è un lavoro completamente diverso non nella nell'utilità ma sì non nella sì è diverso nell'utilità nella divulgazione perché ovviamente chi fa quel tipo di lavoro lì chi fa il fotoreporter ha bisogno di macinare subito e di sparare subito le cartucce chi fa un lavoro come questo è una cosa che viene divulgata in un secondo momento ed ha un diciamo un messaggio che deve rimanere più lungo più a lungo nel tempo quindi noi facciamo questo mestiere sempre ok lì era proprio una cosa diciamo legata al covid esatto però comunque ha avuto l'intuizione giusta in quel senso lì quindi ha fatto un lavoro fantastico e quindi poi ci siamo anche confrontati lui queste cose le ha viste poi quando farò la presentazione spero che ci sarà adesso tornato a vivere a Pesaro quindi siamo anche a 200 metri vicini di casa quindi quando farò la presentazione anche qua a Pesaro sicuramente vorrei invitare anche lui che potrebbe raccontare la sua esperienza che è comunque interessante molto interessante quindi per concludere chi è il fotografo cosa vuol dire chi è il fotografo chi è questo personaggio particolare il fotografo il fotografo io faccio sempre la battuta che ci sono un paio di categorie che negli ultimi anni non mi stanno simpati che sono gli chef e i fotografi delle prime donne no sì no il fotografo è una persona che ha l'esigenza di raccontare quello che gli succede intorno utilizzando il prolungamento della sua mente nella mano del suo modo di vedere ma di vedere non solo sai chiudendo questa è una parte importante le fotografie che un fotografo realizza negli anni poi ogni immagine ogni lavoro è l'insieme di una serie di esperienze che tu fai che può essere la musica che hai ascoltato le mostre che hai visto le persone che hai conosciuto i viaggi che hai fatto c'è tutta una serie di cose poi sono inserite anche nel tuo modo di fotografare questo è importante e anzi è assolutamente così bisogna guardare tanti autori non i soliti ecco qui voglio dire i McCurry della situazione hanno fatto dei danni non indifferenti negli anni questo secondo me è ovviamente ci sono tanti autori molto meno conosciuti dei soliti che possono trasmettere e hanno fatto delle cose interessanti quindi bisogna secondo me sempre andare a cercare libri ecco comparare tanti libri e farsi regalare libri di fotografia di autori perché è lì che si percepiscono e si acquisiscono un sacco di cose interessanti e l'ultima cosa è che la fotografia è una splendida forma di comunicazione e che bisogna usare con grande discrezione e con grande rispetto secondo me e negli ultimi anni è stata usata spesso un po' a sproposito senza polemica un po' così un po' così ho sentito un'intervista una volta di Pellegrin mi ha colpito molto una frase diceva all'incirca che ogni volta che noi premiamo lo scatto quello scatto è la somma dei nostri pensieri è inevitabile che noi in quello scatto diamo voce a quello che pensiamo alle opinioni che abbiamo al nostro pensiero sei d'accordo? è in maniera un po' più diciamo è la stessa cosa che stavo dicendo prima cioè nelle fotografie di un fotografo che ha già fatto un certo tipo di percorso dentro ci sono tutte le esperienze fatte nella vita precedente a quella serie di fotografie e quindi dentro ci sono i pensieri anche ovviamente quindi è la somma di tutto sì assolutamente sì e se diventa un'esigenza poi e se una fotografia non esprime niente? è un problema è un problema è solo estetica? è estetica e basta sì è il discorso oppure no va bene oppure no potrebbe essere secondo me secondo me secondo me no e lo specifico all'inizio la fotografia deve avere un'utilità non deve essere bella non deve essere accattivante ma deve essere utile a chi poi l'andrà ad osservare per uno spazio interpretativo suo personale quindi l'estetica è chiaro che non è che è importante ci deve essere perché dentro un'immagine ci sono una serie di come dire devi inserire una serie di elementi una serie di cose che compongono la tua fotografia e quindi è una questione anche estetica per carità però non è la cosa così importante se una fotografia non riesce a comunicare qualcosa ma qualsiasi cosa come dicevo prima poi l'interlocutore si farà il suo viaggio chi guarderà l'immagine che non è lo stesso non è la stessa cioè non puoi pensare il fotografo non può avere la presunzione di pensare non ti sento Rossano penso che gli si sia scaricato il telefono aspettiamo un secondo vediamo se riusciamo a ribeccarlo penso che sia stata una bella intervista molto interessante e quindi anche se dovessimo chiudere qui va bene così aspettiamo un secondo intanto e vediamo se riusciamo a ricollegarci è bello fare questi incontri anche per avere punti di vista diversi vedere l'esperienza degli altri vedere un po' come va il panorama della fotografia commissionata professionale oltre che quella amatoriale insomma io penso che le esperienze siano tutte importanti proprio questo è lo spirito con il quale faccio questi incontri quello di conoscere e far conoscere niente non riesce a collegarsi e va bene quindi ragazzi io vi saluto adesso comunque ringraziamo Rossano per questa sua intervista che comunque è stata interessante poi avete visto che personaggio io non lo conoscevo l'ho conosciuto per caso quindi mi sembrava utile come dice lui utile fare questo incontro era programmato ad aprile poi dopo abbiamo rimandato perché avevo fatto soltanto una settimana di dirette e non volevo proseguire oltre perché poi si era risolta la questione del covid e quindi l'abbiamo rimandata a settembre sia questa che quella in Matteo grazie a Rossano grazie a tutti voi e ci vediamo presto buonanotte a tutti grazie 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 ciao 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 ciao